Oddio quanta roba c'è qua davanti, quanta roba c'è qua davanti, quadrupla, invece ce ne sono altri e tanti altri, scusate un attimo eh, non è per cattivare né niente ma Oddio i camper Bella tutti compagnia, bentornati con un nuovo video qua su Battlefield 2042 Ci troviamo nella mappa punto critico nella modalità prima linea dell'evento Crimson Front o fronte cremisi Allora sto usando l'HP che da un po' non uso con la skin del battle pass ragazzi che è bellissima Ma questo scusa mi è sembrato proprio davanti a me o sbaglio? Però anche te zio ti metti proprio davanti eh C'è uno qua dentro Ma che volevi fare a zio? Io sinceramente così quasi vorrei andare più avanti Bravo Vio Ok preso Provo il flank Aiuto Sento che c'è uno qua Ah c'è uno No dov'era camperato questo Ok settore preso Guarda guarda Ancora sto qua Il ranger quanto lo detesto Il ranger non lo so è Hulk Cioè non muore è immortale Sento che c'è uno qua da me Porca misura quanti sono No non ci credo Uno di vita fio di colpi Uno qua l'ho preso 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 Non mi finire colpi adesso Preso Madò Ragazzi ho combinato Maledetti Oddio quanta dieta c'è qua davanti Pensavo fosse uno due Erano in cinque Spavento preso Dai qualcuno che mi viene a restare Dai ragazzi per favore Guardalo che bravo Guarda che bravo che sei Grazie Andiamo 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 Quanti cecchini ci sono Ragazzi calmi No abbiamo fatto in tempo busciare Che subito ci hanno preso tutto Mannaccia Ma sicuro avremmo fatto No non ci credo Non ci credo Non ci credo Oh Burro ci ha insegnato a me Stronzo Ragazzi come fregare Dozer Cioè sono mille metodi Vai per Campanitaly Vi insegno tutto per Campanitaly Ah fa un culo pure te Mi sembra un po' esagerato Nel RPG Lascio stare i miei compagni Brother Vedo uno qua Teso aiuto Stavano quasi martoriando Eeeh Porca Day sport grande Dai perlomeno c'ho dei buoni compagni di squadra Arrivo arrivo Vai continua a pingarmelo Ma non schippare che ti resta no Porca miseria quanta gente c'è Allora qua abbiamo Due tizi Presi Eeeh Aiuto Grazie Ti mi ha salvato il culo di day sport Ti voglio bene Ti manderò un panettone Un pandoro Tutto quello che vuoi Occhio Preso Via 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 Un casino un casino Fammi ricaricare Dove retrocedere un attimo Dove retrocedere un attimo Arrivo 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 Ma ti copro Eh merda Arrivo Non mi schippi Non mi schippi Non mi schippi Ti prendo io Vai Non capisco Ah là c'è uno Preso Padanti a me Pronto Preso Qua è tosto Preso No 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 Finchia raga La granata a 200.000 Q Ho colpito un coso di Irish Long Wey 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 Sta buona eh Wabbè allora Sbiantati morirmi davanti Eh Allora non mi ricordo Di mettermi una cassa munizioni Io đó Mannaggia Preso they are lo store spawn Interessante Vai Quari Quari Adesso che lo hanno conquistato Subito Io praticamente Sto flankando in solitaria Buongiorno L'hai fatto? Vieni qua, ti sparo Non intendevo spararti fisicamente Vai, vai, tranquillo Ci penso io, vai, pinga, pinga, pinga Bravo Ma perché la gente però schippa Eh, raga, sono qua per voi, con voi No L'ho sentito, ma pensavo fosse il mio alleato Questo qua di fianco a me C'è un difetto di fabbrica in tutto il mio piano Geniale in cui ho flankato Il mio team non ha pushato Ok, ho fatto due No, in realtà è uno e mezzo Oh, bella, 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 bella E riconquistiamo l'obiettivo B per la settima volta Ottava volta, quanti siamo oramai? Ho perso il conto Ma questo? Nessuno lo vedeva? Veramente? Invisibile? Ah, preso, 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 non ti preoccupare Eh, bella del zio Un'altra volta, eh Ma hanno perso B? Hanno perso, stanno prendendo B? Com'è possibile? No, granata Do 2000 IQ Oh, l'ho preso Ma l'ho preso veramente Preso, ok Andati Credo siano dentro Mannaggia, sti cecchini Ne ho uno qua davanti Eh, che cazzo E basta, questo qua cecchino Quanti siete? Mi sta sparando tipo tre cecchini Mi sta sparando Time out Eh, un po' di time out Per favore Lasciatemi Ispirare un secondo Non chiedo molto Vai, preso Bravo Oddio, quanta roba c'è qua davanti Quanta roba c'è qua davanti Quadrupla E ce ne sono altre Tanti altri Nooo Bello sto respawn Amico Il respawn è esso qui Non è un buon respawn Non è assolutamente un buon respawn Ma per niente proprio Ma quanti siete là dietro Quanti siete? Ma Non ci credo Questo disse sotto terra in vita Pensavo fosse un cadavere Fatti due Fatti Quasi tre Sono in altri tre E c'è un buono ranger Mortecci sua Ok E rotte le palle Oh, i cicchini Mi ha sparato il cicchino da sinistra E c'era un altro camperato qua Bello sto respawn Guardate Cosa si fa Camper Di stacciola E rotte le palle Te lo dico Poi Si va di qua Ti prende lui Dai che stavolta lo conquistiamo Dai Confido in voi guys E rotte le palle Tu Dozer Allora qua Mi lascia a terra Delle cure In modo tale che Mi devo curare Ma quello è un cicchino che punta? Pare che faccio più male di te Sappilo Aria Aria Quello cicchino lì Però non me lo aspettavo C'è niente di me Tente passi Ti piacerebbe Flancare Zito Merda E che cazzo era quello lì Non gli entra i colpi Oh Altra quadra Kill Bella questa Aspetta Prova a lanciare Eh no Eh no 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 Ha finito pure i colpi Cazzo Ok settore nostro Però c'è ancora gente lì Eh Non li ho uccisi tutti Eccole uno Da due Quello preso No Grazie brada Grazie mille Adesso li proviamo a flancare Dalla cosa qua Dalla Raga come cavolo si chiama questa roba qui In sta zona qui Oh Preso Don't worry brada Io mo sto tiltando Se non riusciamo a passare Barca miseria Mi sto cagato a mano Preso Vabbè Chi se ne frega Andiamo a PRC noi Uno Merda Scusate un attimo Non è per cattivare Né niente Odio I camper A parte questo Come mi ha visto Non lo so Manco io Come mi stavo spottando Però Eh Il camper qua sopra Lo vado sempre a prendere Qua O finisce in pareggio O All'ultimo Così qua si Fanno Una pushata Di quelli Incredibile Riusciamo a vincere Ora mi sa che stanno ripusciando Da sinistra E infatti Preso Non mi faccio passare Né da destra Né dal sinistra Né dal centro Guarda che Mannaggia Voi Te la lancio sta grata Oddio Ma raga Ma sono un cicchino Con le granate oggi Che granate della madonna Io ho lanciato questi Non ti mettere davanti Compagno Che sto sparando Uffa E che cacchio Anche te Ti ci metti in mezzo No 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 Qua sotto di noi Preso 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 Tripla Bello Bello Anzi Posso creare Ma anche un ranger Mi chiamo un rangerino Almeno c'è qualcuno Che mi tiene in compagnia Raga Porca miseria Mi dovete levare Da lì dietro Vai ranger Ti do la mano io Sparare Ti do la mano io Oh Senti ricarato No ranger Vendicami Senti Il ranger Che mi vendica Bravissimo Catto Vai c'ho subito Il respawn qua Bello Questo respawn Bravissimo Provo andare sopra Preso Ho smirato Dove ricaricare Preso Un attimo Arrivo No Ma come Ho perso Ancora Che nervoso Il mio team Che non pusha Eh Ci ho provato Ho lasciato stare Il mio ranger Il ranger Preso Tranquillo Preso Pecchinata ancora Con la granata Ragazzi guardate No di poco però Il settore Sotto il nostro Frontrollo Ma Intanto Com'è che Tutti i nemici Sono qua Eh così per dire Aspetta c'è uno qua Ho sentito Tento Ho sentito Tentativo Numero 67 Di pushare L'obiettivo C Veramente Ragazzi Sta diventando una cosa E morici Il mio compagno Vai 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 Qua davanti Preso Qua uno preso Nooo Col sottocanna Vai preso No no Vai fallo 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 Grande Grande No dove Buongiorno Scusi Occupato Non so D'altro Nooo E' tosto 2v1 Dai per il pingo Shaki Grandissimo Bella lì Bella Bella Bravissimo Brava Oh ragazzi Sto compagno di squadra qua E' bravo Mi piace Come gioca Bravissimo Eh ok Ci sono cecchini Sulle colline Che colline Hanno gli occhi Ragazzi Preso Preso Qua davanti Manager Sono un paio Preso Dai 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 Manteniamo la maggioranza Manteniamo la maggioranza Ehi Cosa voglio fare Te Mie compagni Lascia stare Ti penso io Dai oh ragazzi Forse stiamo per fare Sta cosa Per conquistare Mi frega niente Io Mi butto Qua dobbiamo Assolutamente pushare Ve lo dico Non è ammesso La sconfitta qua Non lo accetto Qua adesso La sconfitta Ora 3 2 Yes Ragazzi Dopo sport E' venuto sto qua Squadra qui Bravissimo Cazzo Qua c'è questo qui Dovevo pensare Andare Ehi Ti piacerebbe Ragazzi Ti copro io Vai 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 Vado vado Non chiedetemi come Ma stiamo plantando E se riusciamo a far saltare In area una cosa Io sto qua Veramente Voglio un premio No dai È finito il tempo Non ci credo Abbiamo fatto un flank Assurdo Riuscito a plantare All'ultimo Però ci siamo portati a casa La vittoria A meno quello Sono contento Squadra migliore Armageddon I bei compagni di squadra Che ho trovato Bravi 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 Minchia 3339 punti Contro 1800 Del team Avversario Migliore Che era il secondo squadra E si conclude Con un 128 26 28 assist E 16 Rianimazioni Mamma mia Che partitona Detto questo ragazzuoli Io direi che il video Si può concludere qua Spero tanto che vi sia piaciuto E vi abbia intrattenuto In tal caso Fatemelo sapere Che non vi piace In un commento Dicendomi cosa ne pensate Della modalità prima linea Che io trovo fantastica Iscrivetevi al canale Se ancora non le siete passate Da tutti i miei social Che trovate qui sotto In descrizione Come Discord Instagram TikTok Telegram Come troverete anche Il mio canale Viola Dove mi potete trovare live Dove lunedì e venerdì Tutte le sere Compreso questa sera Mi raccomando Vi aspetto in live Io vi ringrazio Per avermi seguito E noi ci vediamo Con un prossimo video Sempre by Bad Company In Italia